C'è disponibilità da parte dell'amministrazione comunale di Salerno a trovare un'intesa con la comunità del Senegal e del Bangladesh per destinare uno spazio adeguato ai mercatini etnici. Il giorno dopo il presidio pacifico sotto i portici di Palazzo di Città Salerno e il successivo incontro dei presidenti delle comunità con l'assessore al commercio Dario Loffredo, si attendono nuove valutazioni o meglio nuove proposte per giungere ad una soluzione. Per il comune restano comunque valide le ipotesi di utilizzo dell'area del lungomare Marconi e di via tenente Calò. Noi abbiamo chiarito nel passato delle cose precise, abbiamo avuto anche un colloquio, un incontro con i senegalessi. Primo, non si vende merce contraffatta, non si vende sul lungomare, si rispettino le regole se si vuole che le regole vengano rispettate. Due, questo problema va risolto, non ne possiamo più. Credo che l'area del Ban Marconi sia una buona area, in particolare d'estate perché è affollata da turisti, tra l'altro, che si inseriscono bene in un contesto socio-economico come quello dei prodotti dei senegalessi. Credo che la vicenda vada gestita anche da un lato con un po' di autorità, dall'altro con un po' di disponibilità e si finisca con questa tarantella perché non fa bene a nessuno. Ripeto, fuori la merce contraffatta dai lungomare, si stabilisca una regola chiara e precisa e si risolva questo problema perché non è pensabile che si possa avere il comune bloccato o queste altre cose. Conosco gli amici senegalesi, li abbiamo incontrati in associazione, sono persone tra l'altro, quelle che ho conosciuto io per bene, però adesso la vicenda deve chiudersi. Le tensioni tra senegalesi e amministrazione comunale nascono proprio dall'area allestita sul lungomare Marconi, i senegalesi continuano a dire no perché non è idonea per la vendita? Qui è un altro mistero di Pulcinella, c'è chi dice che il precedente riferimento dei senegalesi avesse accettato questo, ma se tu trovi 300 senegalesi tutti insieme che dicono il contrario, forse qualche cosa non quadra. Credo che l'area sia buona, l'area dei Banmarconi, almeno d'estate. Loro hanno chiesto, almeno a me, una turnazione con altre aree per poter gestire aree meno buone e aree più buone. Credo che dare una mezza giornata in una settimana al sottopiazza della Concordia dove abbiamo ospitato le giostrine rumorose e altre cose improbabili non è la fine del mondo. Si risolva questo problema, la città non ne può più. A questo punto, trovando un accordo con i senegalesi, si metterebbe anche un punto per quel che riguarda la vendita abusiva sul lungomare? Ripeto, quello che è illegale rimane illegale. Mentre tutti parlavano, io ho fatto una denuncia alla Procura della Repubblica chiedendo il sequestro delle merci contraffatte perché corpo del reato. Chiacchiere da un lato, fatti dall'altra parte delle cose. Ora questa vicenda va chiusa perché è diventata stucchevole da parte di tutti. Oltretutto la città credo che abbia altri e più seri problemi da affrontare.